Bene, questo esercizio che vi propongo è sulla parata con la mano di richiamo. Il preparatore mette un pallone di riferimento più o meno a questa altezza, un metro fuori dall'arrietta piccola o anche all'altezza dell'arrietta piccola va bene. Il portiere va verso il pallone, tocca il pallone con la mano e effettua la parata con la mano di richiamo. E' importante fare effettuare questo intervento al portiere sia con la mano destra che con la mano sinistra, quindi tocca il pallone, da questa parte andrà con la mano destra e da quest'altra parte andrà con la mano sinistra. E' importante la bilateralità dell'esercizio, quindi se il preparatore nota che il portiere lavora solo e sempre sul lato deve stimolarlo a lavorare anche dalla parte opposta, che spesso è la parte più debole, perché se un portiere sceglie di andare sempre da una parte è perché si sente più forte da quella. Quindi è importante che si allenino tutti e due i lati, come dire, tutti e due i lati devono essere allenati in qualsiasi esercizio viene svolto.